È giunto il momento di far vedere che la storia di San Marino è fatta dal carattere di un popolo che crede che persona e famiglia siano al primo posto e casa significhi libertà di crescere, che sanno che solo la buona volontà di amministrare bene dà esempi di qualità nei servizi e dignità nella solidarietà, perché c'è un punto in cui la storia di San Marino comincia a farla tu. Segna l'attimo. Ora più che mai, San Marino sei tu. L'11 novembre. Vinciamo insieme. Grazie.